Una chiusura d'anno in bellezza, una vittoria in 3-7 che consolida l'ottavo posto in classifica e rilancia ancora di più le ambizioni della Tonno Calipo Calabria nel campionato di Superlega. Vibo Valencia anticipa di 48 ore i botti di Capodanno e davanti ai tifosi di casa sfodera un gioco spumeggiante che le consente di piazzare un netto 3-0 contro Milano. Scesa sul parquet del Palavalencia con poche idee, ma confuse, è penalizzata da un disastroso rendimento in battuta. A salire sugli scudi sono però soprattutto gli alfieri giallorossi che trovano conferme allo stato di grazia dello schiacciatore brasiliano Barretto Silvia, in arte cadu, migliore in campo, supportato dall'efficacia in battuta del francese Geiler e del connazionale carioca David Costa che al centro piazza i colpi determinanti a mettere al sicuro il primo set. Vibo ottiene risposte positive soprattutto dai pilastri del suo sestetto con l'opposto Mikalovic e il trio delle meraviglie Coscione, Barone e Marra che risponde puntualmente presente ad ogni chiamata. Coach Cantor si gode così il momento magico della sua squadra concedendosi un finale dannata dal sapore dolcissimo in attesa del ritorno in campo sul doppio fronte campionato Coppa Italia. Da Vibo Valencia per l'AC News 24. Grazie a tutti. Grazie a tutti.